Richiamato la propria procedente deliberazione numero 15, dato di erna, con il quale si è provveduto in merito al comandio degli eletti alla carica del Consigliere Comunale, dato atto che il Sindaco, immediatamente dopo la deliberazione del Consigliere Comandio degli eletti, ha provveduto ai sensi del decreto legislativo 267.2000, articolo 50,11, a prestare giuramento avanti al Consiglio Comunale, come la procedente al comandio numero 16, dato di erna, condita la comunicazione del Sindaco in ordine alla venuta nomina dei componenti della Giunta Comunale e del Vice-Sindaco, condita la comunicazione del Sindaco in ordine agli incarichi che intende attribuire da alcuni Consigliere Comunali, acquisito il parere di regolarità tecnica espresso nelle forme di legge dal Segretario Comunale ai sensi dell'articolo 49 del decreto legge 267.2000, considerato il Consiglio Comunale e chiamato alla presa d'atto della composizione della Giunta Comunale, prende atto che la Giunta Comunale è composta nel modo seguente Buasso Riccardo, Vice-Sindaco, assessorato al bilancio, al personale e ai bandi Vinai Giacomo, assessorato allo sport, turismo, manifestazioni, innovazione, politiche giornali Buongiovanni Chiara Maria, assessorato all'istruzione e alle politiche sociali Candela Cristina, assessore esterno, assessorato all'agricoltura e all'ecologia cultura Che gli incarichi attribuiti da alcuni consiglieri sono i seguenti Bruno Vanna Susi, in carico di quei rapporti con i consorzi socio assistenziali, casa di riposo e asili privati Capitale Romina, pari opportunità Delina Giovanni Ricchieri, rapporti con i consorzi libri, sviluppo rurale e librico Merlo Zampiero e Chiara Federica, rapporti con le frazioni e protezione civile